A quattro giorni dalla notizia scioccante sullo stop del project financing legato alla realizzazione del nuovo teatro a Teramo con relativo mancato abbattimento del vecchio stadio comunale e dura l'analisi del Partito Democratico che a bocce ferme torna a ribadire l'assoluta mancanza di programmazione dell'amministrazione e del centro-destra Teramano. Mancanza di programmazione che si evince anche dalle tante mancate finalizzazioni di progetti importanti, o mai andato in porto o bloccati, ultimo in ordine il faraonico progetto con la Straferro SRL. Oggi siamo tristi e facciamo un'analisi di quello che è accaduto e non possiamo fare a meno di riscontrare per l'ennesima volta e di ribadire alla cittadinanza questa incapacità politico-amministrativa del centro-destra. Si manifesta in ogni circostanza, questo veramente rappresenta forse l'apice, la dimostrazione di un'incapacità di fondo sia politico che amministrativa. Il progetto pare che vada bene ma sia proprio un problema legato alla ditta stessa? Sì, le problematiche che si rincorrono tecnicamente non ci interessano. Ciò che ci interessa è che per la cittadinanza continuiamo ad avere bocciature su bocciature che purtroppo si vanno a riverberare sullo sviluppo della città. Non solo, questa necessità che parte dal sindaco Chiodi per arrivare in continuità col sindaco Brucchi nel realizzare grandi opere, opere che possono caratterizzare un'attività amministrativa e politica. Di fatto stanno rappresentando per loro stessi il fallimento politico di quello che loro hanno definito il modello Teramo. Noi ricordando dalla Turbo Gas per arrivare al teatro ci siamo sempre messi dalla parte opposta, non abbiamo mai avallato queste iniziative. Eppure c'è chi vi accusa, qualche consigliere della maggioranza che vi accusa in realtà di avere votato questo project financing anche nei precedenti consigli comunali negli scorsi anni? Il progetto di massima per qualcuno non dell'attuale gruppo consigliare del PD probabilmente poteva anche essere condiviso. Le modalità con le quali è stato portato avanti sicuramente non può essere condiviso. Qui bisogna tornare a un dato basilare, ci vuole la democrazia partecipativa, i cittadini devono partecipare, forse questo è il momento per mettere un punto e per riprendere un contatto che è stato scollegato da quando è arrivato questa amministrazione di centrodestra partendo da Chiodi per arrivare a Brucchi.